Gran serate al teatro, prosa, musica, danza, ma anche musical e circo. 60 titoli per un cartellone che profuma di eccellenza e che accenderà dall'autunno del 2018 alla primavera del 2019 le serate vicentine. La Fondazione Teatro Comunale riparte dalle 100.000 presenze in 200 giorni della scorsa stagione, con conti virtuosi, perfettamente in pareggio. Il calendario è stato costruito per stupire, per stupirsi, senza porre limiti, con l'obiettivo di fare il tutto esaurito. Per la concertistica sono previsti 13 eventi di livello e altri 7 con l'orchestra di Enfant Prodige del Teatro Olimpico, ma sono in arrivo a Vicenza anche le energie migliori della danza internazionale, con i brasiliani di Gruppo Corpo e la prima mondiale dei Momics. Anche per la prosa sono attesi grandi nomi, da prime donne come Monica Guerritore e Anna Finocchiaro, al Mr. Green per la regia del Vicentino Pier Giorgio Piccoli, fino a Stefano Accorsi, tanto per citarne alcuni. Ma le novità non finiscono qui. È previsto anche un miniciclo circense con il ritorno della compagnia ungherese Re Cirquel, e poi ancora i fratelli Caproni e i Black Blues Brothers. Infine i fuori abbonamenti, dall'operetta a Loredana Bertè. E ancora serate dedicate a raccontare Leonardo Canova, il design del rinascimento. Per concludere con una novità assoluta, attraversa menti, una sperimentazione in cui vita e cultura si fondono a freddo, liberando l'energia di nuove idee, con artisti e VIP che rivelano il loro lato sconosciuto. Insomma, il teatro comunale è pronto ad accendersi per una stagione memorabile.